Gianlu? Che c'è? Sto registrando. Ups, scusate, ciao, sono Gianluca Bocci e mi sono estratto un attimo leggendo Foto News. Questo tabloid, anzi il ludico tabloid dedicato alla fotografia che vi consiglio per due ragioni. Innanzitutto se avete le braccine o quelle di Montgomery Bars è gratuito. Trovate il link qui sotto in descrizione e potete leggere in maniera del tutto gratuita. Seconda cosa ci scrivono dei grandissimi giornalisti proprio come me. Caaaaaa! Sì vabbè, insomma andiamo alla sostanza. Su questa rivista troverete la prova del Sigma Art 24 70 mm di cui vi vado a parlare in dettaglio un vero e proprio carammato. Ma prima di andarlo a vedere qui da vicino mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate anche la campanellina per avere sempre le notifiche. E quindi andiamo! Bene, iniziamo subito con un confronto visivo e anche sulla bilancia con giustamente il Nikkor 24 70. Allora, se prendiamo il Nikkor, vedete che pesa 957 grammi con la protezione della baionetta inclusa. Se prendiamo il Sigma, 1000 e 4. Allora, diciamo che questi 50 grammi e dintorni in più sono giustificati al fatto che c'è la stabilizzazione ottica integrata. Però lo vedete anche messo qui, la sensazione siccome è più tozzo, più corto, davvero fa brutto tenuto in mano. Sembra più pesante di quello che in realtà non sia. Vi faccio vedere anche quando lo andiamo a allungare. Vedete che comunque rimane sempre un po' più corto, decorrente del Nikkor. E comunque la sensazione è proprio che ci potresti prendere e picchiare qualcuno e non succede nulla. Questo grazie al barilotto realizzato in un materiale che si chiama TSC, che è un materiale che non si deforma praticamente quando passiamo dal caldo al freddo e viceversa. Avete presente i bazooka bianchi che vediamo spesso sui campi di calcio e sui attività sportive? Sono bianchi perché il bianco, riflettendo la luce, si surriscalda di meno. Evitando il surriscaldamento si evitano che le lenti interne si spostino e quindi creino degli errori di messa a fuoco. Questo materiale in pratica fa la stessa cosa rimanendo comunque sempre su un nero più sovrio. Però ovviamente il peso si sente tutto. Ma andiamo ad avvicinarci di più per vedere quella che è la plancia comandi. Iniziamo da questa vista della baionetta. Chi di voi mi segue su Instagram cercatemi, gianluca.bocci, l'avrà già vista sul mio feed, dove si nota il fatto che comunque è tropicalizzato. Quindi è una solidità sia fisica sia quindi resistenza a polvere umidità davvero ottima. Andiamo poi a vedere appunto la finestrella dove appunto possiamo vedere la distanza di messa a fuoco che va da sotto 0,37 fino praticamente giustamente a infinito. La ghiera comunque è molto comoda e si gestisce molto bene. Si gestisce molto bene anche la ghiera dello zoom, ma mi piace sempre molto il fatto che c'è questa lineetta che ci permette di sapere a che focale ci siamo impostati. Qui abbiamo invece la plancia a comandi su cui possiamo banalmente spegnere e accendere. La stabilizzazione ottica che l'ho provata è valida fino a 3 stop sotto quello che sarebbe il classico tempo di sicurezza. Poi come sempre appunto su Photonews, vi ricordo il link qui sotto, andate a trovare tutti gli scatti di prova. E qui abbiamo il selettore della messa a fuoco che può essere messa a fuoco manuale. MO funziona l'autofocus ma dopo ci permette di andare a correggere manualmente la messa a fuoco oppure soltanto autofocus. In realtà tutte queste tre posizioni, ma quando utilizzate almeno sulla mia Nikon, di 700 non fanno differenza perché in realtà è il selettore della Nikon che decide se siamo in autofocus o in manual focus. Dopodiché possiamo comunque sempre andare a prendere e aggiustare la messa a fuoco. Ma infatti penso che sia il momento di sederci davanti al computer e guardare quelli che sono i risultati con quest'ottica. Bene, ecco qui il Sigma poi montato sulla mia fedele Nikon di 700 che compie 10 anni nelle mie mani. Vi faccio notare la sciccheria dell'innesto a baionetta del Sigma su cui ho riportato in auto quindi aiuta a innestarlo e bloccarlo in maniera più facile. Paraluce comunque di materiale plastico ma comunque fa quello che deve fare. Allora, i risultati? La nitivezza a tutta apertura è davvero ottima. Quindi possiamo scattare a 2,8 tipo condizione di scarsa illuminazione come in questo ritratto della mia Agnese e se andiamo a grandire sui occhi insomma si vede la grana ma si vede soprattutto il dettaglio che c'è. La situazione è più facile, poi un'illuminazione un pochettino diffusa, anche qui un dettaglio bello evidente. L'unica situazione che mette davvero in crisi questo Sigma è il controluce. Qui la foto della mia Giorgia e qui onestamente la nitidezza, il contrasto sono stati mangiati dal controluce. In questo senso il trattamento ai nanocristalli della Nikkor costano ma hanno la loro ragione di esistere. Parlando un attimo di autofocus molto veloce, molto preciso, attenzione nell'utilizzo video. Vi faccio vedere questo spezzone, sentite il suono che ha. E visto che parliamo di video, intanto ringrazio Augusto che mi ha prestato la sua Nikon D750 per farci appunto delle prove di video. Tutto in mano al focus, quindi non sentirete il rumore di poco fa. Guardatevi questo bello spezzone e poi andiamo giustamente alle pacelline. Ciao, bimbe! Agnese Bene, spero che questo spezzone con le mie bimbe che giocano al parco vi sia piaciuta. Avete visto insomma che questo Sigma 2470 Art si comporta molto bene. Vi dico questo prima passare alle pacelline. La serie Art è una serie davvero fatta bene, bene, bene. Vi rimando a questo mio video dedicato a grande Renzo Tortelli, fatto poi con la fotocamera prestata dal mio carissimo amico Luca Giustozzi con il 35 mm sempre serie Art. Vedete che va benissimo, anche condizioni atroci come potrebbe essere all'interno di una camera oscura. Ma passiamo in dettaglio a quest'ottica a cosa mi piace. Allora, sicuramente il fatto che è terribilmente solido. C'era un video, anche questo ve lo rimando qui sopra, in cui dicevo potremmo picchiare le persone con un cavalletto. Beh ragazzi, anche con questo Sigma potremmo picchiare qualcuno e lui non farebbe solamente un millimetro di differenza. Ovviamente esce prima il sangue che i danni è lui. Comunque, al di là degli scherzi, è un'ottica professionale, quindi possiamo utilizzarla in condizioni davvero complicate. È tropicalizzato, quindi polvere, umidità, campi da motocross, vai avanti senza nessun problema. Ovviamente resa ottica all'altezza delle aspettative appunto, dicevo, della serie Art, quindi nitido a tutta apertura, unico punto debole, ne parlerò tra poco, è quando si va in controluce. Infine, la stabilizzazione ottica è un aiuto, se ad un punto dobbiamo fotografare gli interni soggetti, ovviamente immobili, ricordate sempre che la stabilizzazione stabilizza voi nella ripresa, non il soggetto avanti, quindi se una persona sta camminando, lo stabilizzatore rimane abbastanza inutile. Però per soggetti statici avere tre stop in più davvero fa la differenza. Ma passiamo invece a cosa non mi piace. Allora, innanzitutto il fatto comunque che è impegnativo ad impugnare. Vi faccio vedere prima, a confronto con il Nikkor, questo barilotto davvero più grande e la sensazione in mano sembra un po' stancante, quindi nel lungo utilizzo si fa sentire. Importante abbinarlo con un corpo bello grande e possibilmente con impugnatura verticale. Seconda cosa, l'autofocus è rumoroso. Attenzione, è un problema soltanto nell'utilizzo video, è un problema se abbiamo piccolo, perché in realtà nel video, anche adesso, si lavora quasi sempre con messa a fuoco manuale. Però se dobbiamo utilizzare la messa a fuoco le riprese video, è sì, il ronzio è ben udibile. Ultima cosa, è sì, il trattamento antiriflesso non è così performante, quindi se siete dei fotografi che amano il controluce o addirittura lo cercano il controluce, sappiate che lì il calo di contrasto è effettivamente evidente. Bene ragazzi, questa conclusione è finita. Ditemi magari nei commenti qual è la vostra esperienza con i Sigma, particolarmente con la serie Art. Vi ricordo appunto che l'articolo completo lo trovate qui sotto in descrizione. E quindi, ciao a tutti e alla prossima!